Allora Gianni, esordi in campionato con il Parma, 20 minuti più o meno, 23, come in Coppa, in Coppa è arrivato il gol, non è arrivato col Chievo, però un pareggio che è stato valutato da tutti in maniera positiva e anche il tuo giudizio due giorni dopo. Sì, è stata una partita difficile, comunque contro una squadra che sappiamo che negli ultimi dieci anni fa della grinta, della fase tattica, della costruzione di gioco, diciamo l'arma per salvarsi in questi anni, quindi non è stata una partita semplice, è una squadra molto difficile da affrontare, soprattutto in casa, che si chiude molto, però 1-0-0 che tutto sommato ci può stare, abbiamo avuto qualche occasione, ma non è andata bene, ci rifaremo sicuramente alla prossima. Domenica Udine, partita difficile, l'Udinese però giovedì ha un impegno anche in Coppa, potrebbe essere un piccolo vantaggio per il Parma? Sì, può essere un vantaggio, però chiaramente conosciamo l'Udinese, sappiamo che ha tanti anni che comunque gioca anche al giovedì, quindi con un mister come Guido Link ha tanti anni che fa sia Coppa UEFA che campionato, quindi saprà gestirli, però sicuramente Agnallà con lo spirito solito per cercare di portare a casa la partita e per dar tutto. La prima volta che hai parlato a Parma Channel erano i primi di agosto, eravamo a Gubbio, faceva anche un po' più caldo di adesso, ci stava meglio. Un mese dopo circa, quattro settimane dopo, il tuo bilancio di questo primo mese di Parma? Molto positivo aggiungo io. Sì, no, a parte quello sicuramente mi sono trovato fin da subito bene col gruppo, ti ripeto conoscevo già tantissimi giocatori, quindi è stato un attimo inserirmi, c'è veramente un ottimo clima, ci sono tutte le potenzialità per far bene quest'anno, sia da parte dello staff tecnico che da noi giocatori, che ci metteremo sicuramente a disposizione di tutti. e sono convinto che potremo toglierci e togliere delle grosse soddisfazioni. Tanti centrocampisti che possono anche andare ai gol, tu sei uno di questi, hai fatto gol contro il Lecce, può essere veramente quella da chiave? Forse è l'aspetto un po' che è mancato col Chievo, gli inserimenti dei centrocampisti in zona gol? Te lo chiedo avendo da vista tu prima in panchina e poi in campo. Sì, sicuramente è una caratteristica mia e poi soprattutto non è che sia mancato, perché comunque penso che anche Parolo e lo stesso Marchionni hanno provato molte volte a inserirsi, però chiaramente nel primo tempo la squadra loro era molto più chiusa, erano a uno baricentro molto basso, quindi non era facile anche trovare gli spazi. Nel secondo tempo si sono aperti, infatti abbiamo fatto delle ottime giocate, lo stesso Antonio ha fatto due o tre belle giocate, perché comunque, ripeto, si erano aperti anche molto gli spazi e per noi centrocampisti averci comunque anche lui che ci dà queste palle è importante e dobbiamo cercare di inserirci e cercare di fare dei gol. Un momento un po' più atteso dell'intervista anche da chi è a casa, perché ormai impazza anche su tutti i forum, su internet, il soprannome Wolverine che è stato dato da me ma da tanta gente su Facebook e su Twitter, tu mi spiegavi però oggi che è un soprannome che ti porti dietro da un po' di tempo. Sì, sì, ma l'ho fatta anche una maglietta, tanti anni che mi porto dietro questa cosa, un po' forse per i capelli, quando mi faccio crescere i capelli o la barba chiaramente un po' dicono che mi assomiglio, però sì. Non hai ancora visto il film però? No, devo andarci stasera, adesso devo andare fra un'ora, devo andare a vederlo con Felipe, quindi speriamo sia un bel film, ecco. Quindi ci aggiorniamo dopo la visione? Sì, dopo, dopo la visione. Grazie, grazie. Grazie.